Mentre nel porto di Livorno venivano intercettati due quintali di cocaina purissima, in Spagna, esattamente a Fuengirola, nella provincia andalusa di Malaga, la polizia locale ha catturato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia, Mario Palamara, 53 anni originario di Melito Portosalvo nel Regino, ma radicato da tempo in Toscana e ritenuto dagli inquirenti il broker dell'Andrangheta, proprio nel porto labronico, che insieme a quello di Gioia Tauro è il principale punto di sbarco della droga in Italia, a suo carico vendevano due mandati di cattura europei per due distinte ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per le accuse di associazione per delinquere finalizzata all'importazione di droga dal Sud America e di fabbricazione di falsi documenti di identità validi per l'espatrio. Palamara deve scontare una condanna definitiva a 14 anni e 4 mesi di reclusione per traffico illecito di sostanze stupefacenti e concorso in riciclaggio.